Ok, questa è teoria però, ma come si fa ad arrivare al risultato nella pratica? Per questo bisogno di parlare con qualcuno che l'azienda l'ha costruita sul serio, da zero. Gianluca Binelli è un imprenditore del marketing digitale. Dopo diversi anni nel settore tech, incluso Google a Londra, Dublino e New York, ha fondato Boosterbox, un'agenzia di marketing digitale che in pochi anni è diventata tra l'agenzia di performance marketing top in Italia e nel mondo. L'azienda è cresciuta tantissimo, dando lavoro ad oggi ad oltre 70 persone. C'è stato un momento in cui non potevo più non provare. Dovevo per forza dare a me stesso una chance e provare a fare la mia attività che fosse tutta mia, in cui non dovesse rispondere a nessuno, in cui potevo prendere tutte le decisioni che volevo. Volevo dire a me stesso almeno ci ho provato, quindi c'è stato un momento in cui questa voglia di dire a me stessa almeno ci ho provato era troppa e quindi ho dovuto buttarmene e farla.